No, guardi, io allora sul tema del patto di stabilità del MES devo dirvi che questo link lo vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quale sia il patto del quale disponiamo, come abbiamo sempre detto, perché gli strumenti si mettono insieme tutti quanti, ma non c'è questa dimensione, come posso dire, del ricatto, mi passi il termine, di dire se non fai questo non diamo questo, non l'ho vista, nessuno ha mai posto la questione così, per quello che riguarda l'Albania, guardi, io questo non lo so dire, spero di no, ovviamente, ma non mi infilo nel... Ma un rischio fallimento, io spero di no, diciamo sono ottimista che non accada, ma non posso dire per quello che accade in una nazione sovrana e rispetto alle decisioni di una nazione sovrana, vedremo come andrà nelle prossime settimane e faremo del nostro meglio se le cose andranno bene per accelerare ancora di più. No, per ora non abbiamo, non credo che abbiamo bisogno di un piano B.